Penso che si sia arrivata ad una mediazione infelice perché purtroppo è un provvedimento di legge che non è né carne né pesce perché pensare a tutte queste procedure arzigogolate, il consenso, la firma disgiunta, nove anni di convivenza realmente è una cosa assurda, è un primo passo però mi aspettavo più coraggio da parte del governo di centro-sinistro questa è una delle più gentili delle mediazioni che scontenta tutti, scontenta chi vuole a tutti i costi essere cattolico all'interno delle istituzioni scontenta i laici e scontenta anche i paesi